Cristian ti chiede invece se lo gestisci tu il tuo profilo Instagram? Lo gestisco? Io metto schiaccio? Gestire cosa vuol dire? Possiamo raccontare gli aneddoti fino a ogni settimana prima di iniziare la diretta che ti ha aggiusto il telefono, è vero? Ragazzi io mi faccio tutto da solo, mi faccio. Se non era così, io Facebook, sai, secondo me, secondo me, la vita sapete qual è ragazzi? E' quella che vi passa davanti mentre voi siete sul telefonino su Facebook, quella è la vita vera.